amiche e amici bianconeri bentrovati con un nuovo appuntamento voluto per arricchire i contenuti del mio canale e avvalendomi della collaborazione di un amico ma soprattutto giornalista match analyst e anche fondatore di underrated scout se non sbaglio vero gabriele grazie per essere qui ospite sul mio canale ma poi più che ospite direi un vero e proprio collaboratore se andremo avanti in questo in questa rubrica che abbiamo pensato per dare un po risalto ora che siamo in calcio mercato a nuovi talenti che alcuni magari conosceranno altri invece avranno modo di conoscere attraverso la tua sapienza grazie a te per per questo invito e speriamo di rilanciare il calcio del settore giovanile in italia anche grazie a questa rubrica appunto che abbiamo ideato perfetto allora siccome è un po una sorpresa per chi ci seguirà i giocatori che tu andrai a presentare diciamo subito che svarieremo cioè da sia giocatori italiani sia giocatori ovviamente di campionati esteri ora io lascio la parola a te per sapere perché anch'io poi sono curioso di sapere qual è il primo giocatore che parteciperà a questa rubrica definiamola gran talenti e poi in futuro insomma nei prossimi giorni prossimamente vedremo vedremo quali altre idee porterai qui sul mio canale mi raccomando seguite gabriele sia nel suo profilo twitter gabriele grissuti sia con underrated scout perché lì troverete queste informazioni molto interessanti di cui abbeverarvi ora che siamo in calcio mercato per scoprire i nuovi talenti prego gabriele certo allora il primo giocatore che vado a presentare oggi vado a condividere lo schermo con voi è alessandro cortinovis partiamo da il report che abbiamo preparato noi di android scout come vedete alessandro cortinovis prima partiamo dalla posizione in campo che è coperta posizione in campo di alessandro cortinovis giocatore dell'atalanta primavera è un trequartista un classico trequartista dietro le punte può giocare anche in un attacco a due molto tranquillamente ecco sbagliato benissimo può giocare a due tranquillamente nell'attacco punto atalantino quest'anno l'atalanta non è riuscita ad arrivare nelle nelle finali di del campionato primavera però comunque la sua nata è stata abbastanza discreta nove gol in campionato in 22 partite e tre gol su tre presenze appunto nelle 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 fasi finali del campionato primavera che sono state vinte dal dall'empoli e poi in futuro parleremo anche di qualche giocatore dell'empoli come vedete il report noi di underrated scout l'abbiamo ideato anche per un certo modo essere molto d'impatto ok e ovviamente in inglese ma farò per voi la traduzione come ho detto appunto atalanta under 19 lui è in classe 2001 un 80 di piede destro e qui ci sono tutti gli attributi che potete vedere quindi spicca sicuramente il ball handling quindi la gestione della palla a cui abbiamo dato un nove o il passaggio corto l'otto e mezzo e un passaggio lungo sette e mezzo ovviamente ricordo che questi voti sono dati anche in base alla divisione quindi al campionato in cui in cui giocano non sono assolutamente universali anche perché altrimenti se cortinovis prende nove De Bruyne dovrebbe prendere 47 e quindi sarebbe problematico in rapporto al campionato ovviamente disputato esattamente esattamente per quello perché altrimenti andavamo anche in difficoltà noi in un certo modo a dare queste queste votazioni come interrompo un secondo ma anche per per portare a conoscenza di diciamo di chi sei di che cosa fai a chi ci segue e a chi ci seguirà anzi mi raccomando rubrica interessante seguitela perché mano a mano vi renderete conto del della cosa che può essere davvero interessante tu sei un estimatore di Alessandro Cortinovis perché tu scrivevi per le giovani dell'Atalanta Sì esatto non proprio nel giovani dell'Atalanta io scrivevo per questo giornale che si chiama Sprint Sport un giornale lombardo e piemontese che va in un certo modo a fare crona capagelle delle partite principali nella provincia nella regione e anche appunto si parlava di primavera di campionato Berretti delle under 17 16 15 delle nazionali e quindi molto spesso mi capitava di andare a vedere l'Atalanta essendo comunque della zona vicino a Zingonia capitava che appunto riuscissi a vedere queste partite e Cortinovis mi è capitato tantissime volte sono partito con l'under 16 addirittura quando lui comunque era sempre il più forte in campo fino ad arrivare alla Berretti all'ultimo anno di Berretti dove anche lì comunque il suo strapotere tecnico soprattutto si vedeva lontano un miglio e quindi da questo punto di vista ho voluto proprio iniziare con lui perché lo sento proprio dentro è uno dei primi giocatori di cui si potrebbe dire ho fatto scout nonostante comunque ovviamente già era l'Atalanta quindi sicuramente c'era qualcuno prima di me che l'ha notato. Ci sono scusa sempre se ti interrompo ma mi piace poi interagire e quindi ci sono due cose che mi stanno incuriosendo nel report che è qui in sovrimpressione il 5 che hai dato alla velocità mi porta a pensare che sia un giocatore non veloce ma diciamo atleticamente poi di pensiero invece immagino sia un giocatore molto rapido di pensiero e questo accostamento che tu dai a Luka Modric è per farci capire che tipologia di giocatore può diventare Cortinovis? Esatto 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 parlando anche con altri all'interno del gruppo ma anche altre persone su Twitter che hanno visto Cortinovis comunque anche negli ultimi anni io ho segnato perché comunque lui ha sempre giocato come trequartista però come prosegue della sua carriera si pensa che possa arretrare un pochettino il ragione della situazione in modo da diventare un pochettino più pericoloso ma in termini proprio di costruzione del gioco proprio perché appunto come dicevi velocità agilità non hanno dei buoni punteggi e quindi magari tra le linee potrebbe avere un pochettino delle difficoltà nel momento in cui riuscirà ad esordire in Serie A da questo punto di vista appunto il mio accostamento a Modric anche se comunque io questo report l'ho fatto qualche mese fa e appunto ho segnato alcuni alcuni commenti l'ultimo ho segnato che deve migliorare nel tiro soprattutto dalla lunga distanza e dopo ti mostrerò e vi mostrerò un video dove in realtà probabilmente anche lui ha letto il report e ha detto ah ok devo migliorare la lunga distanza allora ha deciso di far gol da 30 metri proprio per dirmi va bene dai sono migliorato perfetto mi incuriosisce anche capire da un punto di vista fisico è un giocatore che ancora è gracilino è un giocatore che ancora deve formarsi per poter avere un impatto importante in una Serie A o eventualmente in una Serie B o è un giocatore che è già pronto da un punto di vista fisico secondo me è già pronto io pensavo che anche quest'anno con la questione dei cinque cambi del Covid potesse trovare un pochettino di spazio ha solamente collezionato delle convocazioni però non è mai riuscito ad esordire e io penso che quest'anno spero soprattutto che quest'anno possa riuscirci anche perché ormai nel campionato primavera è diventato un giocatore fuori di categoria e quindi in un certo modo perderebbe tempo quindi o per lui si dovrebbe prospettare un prestito magari in una Serie B appunto come dicevi o altrimenti deve essere assolutamente nel giro delle convocazioni per la prima squadra e quindi degli esordi per appunto raccimolare qualche minuto In tema di Juventus perché questo come tu ben sai è un canale prettamente bianconero ci seguono tanti tifosi della Juventus ti chiedo se ci può essere un accostamento tra Cortinovis e Niccolò Fagioli ad esempio Bella domanda questa Allora io sinceramente vedo Fagioli un pochettino più centrocampista rispetto a Cortinovis quindi non dico davanti alla difesa però più una mezzalla di possesso più una mezzalla costruttore di gioco Cortinovis come dicevo nasce trequartista e per andare avanti nella sua carriera ho appunto pensato che possa abbassarsi di qualche metro Però comunque non dimentichiamo che lui nasce trequartista quindi se come dicevo riesce a migliorare soprattutto nell'ultima zona di campo e quindi essere un pochettino più rapido assolutamente può dire la sua Accostamento con Fagioli è un pochettino azzardato secondo me Perfetto adesso se vuoi possiamo lanciare il video così come prima ci hai un po' incuriosito vediamo un pochino le qualità ballistiche di Alessandro Cortinovis Certo, certo Allora Non mi esce da qua Ok eccoci Allora qui troviamo la nostra pagina qui di Android Scout come vedete Ladies and Gentlemen Alessandro Cortinovis Take a bow che vuol dire inchinatevi a lui Come vedete qui è il Final Four contro la Roma Lui adesso riceverà palla E da fuori aria decide di far gol così Direi una bella parabola che di questi tempi spesso si è sentita definire o tira a gir qualcosa del genere Esatto Tiro un po' all'Alessandro del Piero Davvero una bella conclusione Gol peraltro che è valsa la vittoria dell'Atalanta sulla Roma Sì loro sono passati poi hanno giocato hanno giocato il turno successivo La Roma è stata eliminata La Roma che tra l'altro era una buona pretendente al titolo primavera Ma Cortinovis si è inventato questo gol agli ultimi minuti appunto come vedete 87esimo E l'Atalanta è passata a discapito dalla Roma Perfetto Se non hai altre immagini particolari O caratteristiche particolari da esprimerci su Alessandro Cortinovis Io andrei a concludere E soprattutto però vorrei che tu ci dicessi Su quale basi sceglierai i prossimi talenti da illustrarci qui sul mio canale Allora su Cortinovis in realtà come potete vedere Abbiamo detto ampiamente prima È un giocatore molto tecnico Un giocatore che cerca appunto come c'è scritto anche qui Passaggi, linee di passaggio Che sono sempre utili per superare il pressing avversario Quindi uno di quei giocatori che davvero Manca proprio tutto al sistema calcio italiano Noi abbiamo vinto da poco l'Europeo E l'abbiamo vinto grazie a un grandissimo centrocampo E penso proprio per questo motivo Che Cortinovis possa riuscire ad entrare nel giro giusto Proprio per queste sue qualità Per quanto riguarda invece il prossimo giocatore Dato che abbiamo parlato di un centrocampista Magari cercherò di cambiare ruolo Magari parlerò di qualcuno che in questo momento gioca nella Juventus La primavera nell'Under 23 insomma Ci sono un po' di giocatori validi Meno male aggiungerei Soprattutto nella primavera che quest'anno hanno fatto molto bene E che potrebbero secondo me Già quest'anno entrare nelle rotazioni di Allegri Allora la speranza è che questi giocatori che tu vai a raccontarci E a presentarci possano giocare Come vedete qui alle mie spalle In questa new location dell'Allianz Stadium Gabriele io se tu hai concluso Ti ringrazio per questo contributo Preziosissimo per quanto mi riguarda Perché Alessandro Cortinovis conoscevo più per così nome Che non per caratteristiche nello specifico E soprattutto io il gol che tu ci hai mostrato non lo avevo visto Grazie Gabriele Grazie a te per l'invito E ci vediamo alla prossima Ci vediamo alla prossima Mi raccomando ribadisco Iscrivetevi all'account Twitter di Gabriele Grissuti Ma anche all'account di Underrated Scout Sempre gestito dal fondatore Gabriele Grissuti E poi iscrivetevi al mio canale YouTube Tenete attiva la campanella delle notifiche Così potrete essere informati su tutti i futuri contenuti E spero che questo sia uno di quei contenuti Che possano arricchire il canale E mettete like al video Se questo è stato un contenuto di vostro gradimento Ragazzi sempre Forza Juve Vi do appuntamento alla prossima Ciao Grazie ciao Ciao Gabriele Iscrivetevi al mio canale YouTube Mettete like al video Seguitemi sui social che vedete qui accanto E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.